ben ritrovati a voi tutti alla visione d'ascolto di questo nuovo numero di dolomiti turismo quest'oggi siamo in primavera ma parliamo del mestiere dei maestri di sci perché perché l'attività i maestri di sci non è che si chiudono gli impianti e arrivederci al prossimo anno ma continua tutto l'anno capiremo anche come si può diventare maestri di sci con Fulvio Valta maestro di sci responsabile delle scuole di sci del Veneto ciao Fulvio benvenuto nei nostri studi ciao Claudio ho inquadrato correttamente quindi il maestro di sci anzitutto vediamo un po' i numeri perché sono numeri importanti la nostra è una regione chiaramente che si impronta molto sul sul turismo della della neve quanti maestri di sci ci sono in Veneto Fulvio in Veneto ci sono 1500 maestri di sci suddivisi sulle discipline dello sci alpino dello sci nordico e dello snowboard questi sono i maestri di sci in generale poi ci sono che rappresentano poi i maestri di sci sul territorio ci sono le scuole di sci che sono 39 in tutta la regione la parte più importante è nella provincia di Belluno naturalmente interamente montana ci sono 26 scuole di sci e poi la provincia di Vicenza e la provincia di Verona che ne ha solamente una. Quindi questi i numeri ce ne sono sufficienti maestri di sci fulvio ne servirebbero è appetibile per i giovani e si può vivere facendo il maestro di sci credo che sia questo un po' l'interrogativo da parte dei nostri giovani magari appassionati al mondo della neve dunque parrebbe che 1500 maestri di sci siano sufficienti a coprire le esigenze del mercato poi sinceramente entrando poi nel 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 pratico quindi per chi veramente gestisce anche le scuole di sci il numero non è sufficiente in quanto ci sono molti maestri che non praticano o meglio praticano saltuariamente nei periodi natalizi nei periodi di alta stagione piuttosto che nei weekend però l'esigenza delle scuole di sci è quella di avere i maestri di sci che siano stabili e che lavorino tutto l'inverno anche perché le stagioni fortunatamente stanno andando avanti abbastanza bene per cui ci sono quattro mesi pieni di attività dai primi di dicembre fino a fine stagione quindi normalmente è intorno alla pasqua e le scuole di sci come gli altri attori del mondo dell'invernale lavorano a tempo pieno lavorare a tempo pieno quindi e diventare maestro di sci fulvio vuol dire si può diventare maestro di sci soltanto in giovane età oppure anche non so a 30 anni a 40 anni qual è il percorso per diventare maestro di sci fulvio il percorso per diventare maestro di sci è un percorso ahimè molto lungo nel senso che essendo una professione quindi un'attività professionale i maestri di sci sono iscritti a un albo un albo professionale hanno bisogno di competenze tecniche soprattutto molto elevate perché poi si ha a che fare con delle persone i clienti e anche a livello di responsabilità sono molto importanti per cui il percorso è un percorso che parte da dall'età scolare diciamo da quando si è bambini va avanti a livello agonistico negli sci club negli ski college a livello di comitato veneto o più avanti ancora nelle squadre nazionali e quindi è un percorso molto lungo che va a concludersi con il corso di formazione che può essere fatto a 18 anni quindi raggiunta la maggior età con una prova selettiva di per accedere al corso di formazione per tutte e tre le discipline quindi per lo sci alpino per lo sci nordico o per lo snowboard e poi con un corso di formazione della durata di 90 giorni in varie fasi quindi tutta la fase tecnico pratica la fase didattica e anche la fase teorica che è molto importante racchiude delle delle materie ad esempio la fase teorica dalla neve valanghe alla topografia leggi e regolamenti primo soccorso nozioni di primo soccorso quindi diciamo ci sono delle delle materie che sono piuttosto importanti e va a concludersi questo corso di formazione con tre prove conclusive appunto una prova tecnico pratica una didattica e una teorico culturale ecco ci accennavi al percorso agonistico è necessario se non c'è un background agonistico non si può accedere al corso che ci hai parlato oppure è soltanto una consuetudine diciamo così no non è naturalmente una una cosa che deve essere fatta per forza chiaramente è più avvantaggiato chi ha fatto un percorso da bambino in avanti però ci sono siccome la selezione poi è aperta a tutti ci sono naturalmente anche persone che si sono preparate con qualche anno di anticipo e e hanno partecipato alla selezione e hanno superato anche i test naturalmente per accedere al corso di formazione la parte principale è una selezione tecnico pratica per cui uno deve sapere sciare a beh certo certo chiaro e sciare a un certo livello ecco fulvio i corsi di cui ci hai parlato voi avete la sede del collegio regionale maestri sci proprio qui a belluno vengono fatti a belluno oppure bisogna spostarsi andare in altre località la parte culturale quindi teorica culturale viene svolta a belluno presso la casa del maestro che è una costruzione inaugurata nel 2020 quindi una un vanto per per tutto il mondo del degli sport invernali direi e della montagna perché avere una una casa prestigiosa in a belluno è veramente un vanto viene effettuata tutta la parte dicevo tecnico culturale e tutta invece la fase pratica viene svolta tra le nostre aree scistiche della provincia di belluno e nei periodi autunnali anche sui ghiacciai che sono aperti possono essere il passo dello stelvio piuttosto che dei ghiacciai in austria certo quindi mi sembra di capire all'inizio ho introdotto il tema con il maestro di sci non si limita soltanto all'inverno ma l'attività poi prosegue per tutta la stagione a proposito in questo periodo i corsi per un telespettatore che fosse incuriosito dalle tue parole mi piacerebbe diventare maestro qual è l'approccio in questo periodo si fa qualche cosa dove ci si può rivolgere fulvio beh naturalmente dicevo prima la casa del maestro quindi il collegio regionale dei maestri di sci è aperto tutto l'anno ci sono due segretarie che lavorano tutti i giorni e quindi ci si può informare direttamente presso la casa del maestro oppure anche sul sito internet del collegio regionale dei maestri di sci del veneto in questo momento qui sono in atto i corsi di formazione e quindi siamo ancora sulla zona di cortina che abbiamo ancora delle delle piste aperte solo per riservate per il corso di formazione e poi ci si trasferisce appunto sui ghiacciai come dicevo prima fulvio attuale lunga esperienza responsabile scuola sci equip di falcade tra l'altro una tradizione anche di famiglia sei sempre stato nel mondo della neve il mestiere maestro sci rispetto al passato è attrattivo rispetto ai giovani c'è voglia perché voglio dire c'è anche giustamente molta responsabilità nel senso anche per prevenire anche l'incidente in pista ancor prima che per il divertimento per questo bellissimo sport c'è da dire che i giovani al giorno d'oggi studiano più di un tempo per cui frequentano la gran parte un percorso universitario e quindi vedo che non c'è un profondo legame come c'era una volta con le scuole di sci vale a dire che hanno ancora la voglia di lavorare e quindi di fare il maestro di sci ma un po' meno a tempo pieno rispetto a una volta ecco questo qui è un po' la tendenza che va avanti non solo nelle nostre zone ma un po' in tutta l'italia in tutto l'arco alpino almeno ecco da quello che sono i miei contatti anche con altre realtà vedo che questa è la tendenza è ancora appetibile perché è una professione interessante sia a livello economico ma anche soprattutto per praticare un'attività all'aria aperta e a contatto con molte persone di qualsiasi estrazione sociale quindi è una professione molto interessante ancora ripeto non praticata così a tempo pieno come lo era una volta ma forse anche perché Fulvio intuitivamente si potrebbe pensare ok d'inverno faccio il maestro di sci ed estate dove necessariamente svolgono altri impiegos è questa veramente la caratteristica della professione del maestro di sci oppure si può pensare anche di fare il maestro di sci in maniera esclusiva tutto l'anno esistono delle possibilità in questo senso Fulvio? diciamo che le scuole di sci rispetto a un passato si sono un po' trasformate fortunatamente e quindi chiusa la stagione invernale hanno nella propria in seno alla scuola di sci altre attività che siano attività di escursionismo con gli accompagnatori di media montagna che siano proprio attività di alpinismo e quindi con le guide alpine al proprio interno attività di mountain bike corsi di tennis sempre seguiti naturalmente dai professionisti del settore e quindi sono delle attività che durante il periodo estivo fungono diciamo da completamento per il maestro di sci quindi il maestro di sci ce ne sono molti che sono guide alpine accompagnatori di montagna guide di mountain bike maestri di tennis e svolgono poi la professione di maestro di sci durante il periodo invernale anche perché completano su 12 mesi più o meno 10 mesi all'anno sono sono coperti quindi è un'attività interessante anche perché mi viene in mente tu come direttore della scuola sci equip in estate quindi organizzate tante attività con anche il coordinamento penso dei maestri di sci e quindi non è che un maestro debba andare allo sbaraglio se associato a una scuola strutturata può effettivamente svolgere queste attività tutto l'anno se ho compreso correttamente esattamente questo qui è la tendenza che non dico che sta venendo avanti ma c'è già da da una decina d'anni voglio dire questo è quello che è che il mercato può offrire quindi ci sono molti più giovani molte più famiglie che durante il periodo estivo si rivolgono alla montagna e naturalmente la montagna deve offrire qualcosa per chiaro perché ci sia una vacanza appetibile e con dei professionisti qualificati che sappia il nostro territorio fulvio abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione è stato un grande piacere averti ospite e averci spiegato questo magnifico mestiere appunto che il maestro di sci grazie a voi tutti grazie per la gentile visione l'appuntamento rinnovato alla settimana prossima